Un librettino scritto fitto fitto in cinese che la maîtresse cercava inutilmente di nascondere. E questa è la novità piccante nell'ennesima casa di appuntamenti scoperta nella marca. L'appartamento gestito da una quarantena cinese era in via Trento a Mogliano, dove esercitava al momento una sola prostituta proveniente dallo stesso continente. Trent'anni, bella presenza, si accompagnava con una media di 10 clienti al giorno. 100 euro alla prestazione, che venivano incassati dalla maîtresse, che aveva anche il compito di fissare gli appuntamenti, guidare i clienti verso il portone giusto, dopo aver verificato che chi rispondeva agli annunci sui giornali o in internet non fossero malintenzionati o, peggio, poliziotti. Tre clienti trevigiani e veneziani e qualche straniero di ogni classe ed età, che dopo un primo assaggio diventava clientela fissa per la bella cinese. Nomi e telefoni che venivano notati nell'agendina rossa con relative note piccanti, che i carabinieri sono fatti tradurre, dopo aver notato quanto fosse prezioso per la tenutaria. Così sarebbero emersi in questo straordinario campione di clientela a pagamento i gusti sotto le lenzuola con qualche delusione. Veneti a quanto pare più tradizionalisti, attenti alla prevenzione sessuale e in genere anche più generosi. Pochi giochi a luci rosse, mentre fruste e manente sarebbero prerogative dall'est europeo. Tra i numeri anche qualche presenza femminile, in genere in carriera, con poco tempo per affetti e uomini, tra l'altro difficile da trovare pagamento. Da qui la scelta di dedicarsi ogni tanto a un'avventura diversa.